buonasera eccoci siamo di nuovo tornati ma hanno rinvitato in questo posto peter e jantmoney proprio lui jantmoney l'altra sera si è fermato da me ai bargini ai barre dice gino passa un attimo dice ti devo far vedere una cosa nuova che è uscita fuori ora ma ha detto li ai barre viene a darci una mano io c'ho da fare tutta una mano a peter ha trovato sto nuovo sistema che arriva e messaggini sui cellulari e da quelli e si fa vadrini e allora dice a test e dice tempo peter tenete il conto ci ha lasciato anche l'alcolatrice e allora siamo qui da un po d'ore e insomma che funziona lui e c'è il suo di cellulari io col mio c'ho anche due schede che ora vada peter sono partiti da poco 22 sms sul totale di 99 che ci ha messo lui e non si tiene il conto peter almeno vediamo un po quanti quattrini fruttano poi e si sente a lui perché caro peter è sordi è un sommina che nasca sull'arberi e venga giù come ci viene giù l'orsi dall'arberi tipo questi vedi e c'è l'orso e viene giù dall'arbero è sordi è un ben cambiato sì almeno voglio vedere anch'io di mettimi sulla massa forte come tu ti sei messo su te perché è un guamina bene e te tu sei piccino tu hai il cellulare più piccino e tu guadagni più di me che io grazie a lui ora qualcosina e mi arriva anche a me vada per lui ha sentito in lui e soprattutto la pe sua e su più di 450 dollari che mi ha fruttato in una ventina di giorni buttali via che di e ci pago il conto di barri con questi soldi rimettiamo sto cellulare a posto guardiamo faccia a scorrere parecchi sms tra le sms e il fatturato che mi fa lui almeno e si va un po meglio visto si parlava di barri e hanno preparato il vino e allora quasi quasi l'hanno messo a bianco stavolta ma remante amaro che è schifo questo non è vino ma non dà la birra o che sono matti e mi fa schifo a me io sapete che fa e vò via peter e ti saluto io vò via con la birra a guardare a faonti dei messaggi tutti dati a già mori che ci stia lì perché io in testa e oggi un mio pesci il robot e fa padrini e began questo nuovo modo con la sms che scorrono e si vada neanche ma un po di sale nella zucca per capi che le birra e ce l'ho anch'io e quando come riportare il vino e ritorno questa volta l'abbiamo combinata grossa abbiamo lasciato la birra a gino di barre questa peter non la dovevamo proprio fare vabbè vedremo di rimediare la prossima volta ma andiamo a vedere i conteggi che avete fatto cavoli però grande peter e anche grande gino di barre ha fatto dei numeri in ottobre novembre veramente esaltanti questa nuova app sto parlando di coin box una app molto simile a sincash che conosciamo già chi non la conoscesse vada a vedere di che si tratta sincash è una app che ultimamente sta rallentando un po troppo la vendita dei suoi sms ed ecco che da circa un mese abbiamo scoperto questa nuova app che si chiama coin box in quanto canale youtube votate al risparmio siamo sempre alla ricerca di entrate automatiche e rendite passive ed ecco che anche stavolta siamo lì a raschiare il fondo del barile quel famoso barile di vino che tanto piace al nostro gino di barre john money insieme al mitico peter abbiamo scoperto questa nuova app andiamo a vederla nel cellulare ma peter questo è il cellulare di gino di barre ha lasciato qua vabbè non importa andiamo avanti dicevamo ha mandato molti sms in questa giornata e il cellulare di gino di barre ha un saldo di 7,64 dollari per una persona che ha questa app da solo una settimana coin box una app che permette di vendere i tuoi sms inutilizzati del tuo piano tariffario col tuo operatore del tuo cellulare soltanto per cellulari di tipo android non è valida per gli iphone e ha la necessità di avere costantemente attiva la connessione internet 3g 4g oppure il wifi di un router registrarsi è semplice e gratuito puoi trovare il link qui sotto in descrizione ed iniziare ad accumulare le vendite di sms mesubero e a fare tanti soldi come giro di barre sul sito di coin box scrivono che si può ritirare l'intero incasso a partire da 10 dollari abbiamo fatto tante prove e abbiamo scoperto che sostanzialmente serve accumulare almeno 11 dollari per poter prelevare su un proprio iban bancario considerate le commissioni di circa 30 cents molto probabilmente caro peter dovrebbero andare bene tutti i tipi di va e tutti i conti sia italiani che esteri ma coin box consiglia vivamente considerando che è una valuta straniera ovvero il dollaro di utilizzare il conto di wise al cui video ti rimandiamo e che ti dà modo di avere 10 iban esteri totalmente gratuiti con quello di tipo europeo puoi metterlo all'interno dell'account di coin box e ritirare soldi direttamente sul tuo account di wise e utilizzarli anche con la carta wise le commissioni infatti con wise per il cambio dollaro euro o per tutti i cambi valuta è veramente veramente impressionante ovvero sono bassissime richiedendo 11 dollari abbiamo ricevuto 9 euro e 68 e ben 28 centesimi in più rispetto ai 9 euro e 40 che la stessa coin box ci ha fatturato un conto con 10 iban fino al canadese il neozelandese l'australiano totalmente gratis tutti a propria disposizione grazie a wise il prezzo della vendita di ogni singolo sms lo trovi nella lista all'interno del sito di coin box è di 0 0 75 è un prezzo fisso a differenza di quel che avevamo visto con sin cash puoi riuscire ad incamerare veramente tanti sms fino a un massimo di 250 al giorno tutti i giorni ovviamente questo dipenderà dal tuo operatore telefonico e per le soglie e per i limiti ti rimandiamo all'articolo che abbiamo scritto sul blog tecnogalaxy che è frutto dell'impegno mio di peter e di gino di barre che ci siamo impegnati tutti quanti a fare test per te per scoprire che è una app che ci ha pagato addirittura in meno di tre ore dalla richiesta abbiamo avuto i soldi direttamente sul nostro conto belga di wise e un nuovo modo di riciclare i tuoi sms in esubero e di far cassa se non sei ancora in possesso della carta di wise e dei 10 conti wise vai immediatamente a vedere il video e dotati di questa carta veramente favolosa potresti inoltre da lì trovare il modo di utilizzare i dollari per trasferirli e cambiarli in criptovaluta stablecoin come gli osdt usabili su binance su bitpanda e su tante altre app che ti danno tutti i vantaggi del mondo delle criptovalute se gli incassi di coinbox ti sembrano un po' bassi ecco che puoi rifarti subito utilizzando il robot royal q in questo mese abbiamo testato per te l'app di coin box con vari operatori tra cui i migliori sono risultati kena con cui ti lascio un codice evito o mobile con cui c'è una promozione in corso chiamate illimitate ed sms da sfruttare a partire da 5 e 99 al mese e non solo utilizzando il link sotto descrizione al video avrai anche 5 euro di bonus sulla seconda ricarica un modo per spendere 5 euro e 99 di abbonamento col proprio operatore e sfruttando coin box il modo di riavere questi soldi e addirittura di guadagnarci tutto questo è il canale youtube votate a risparmio di peter e john money quindi iscriviti al canale perché è gratis e si imparano un sacco di metodi per far soldi e mentre gli sms sono passati da 22 a 23 e nel frattempo che gino di barre continua a guadagnare andiamo a testare una sim straniera che ci darà modo di vendere gli sms ad un prezzo ancora più alto nel dirti tutto questo ti salutiamo perché i test e le nuove app da vedere da provare e i nuovi business e le nuove opportunità da cercare continuano ad essere tanti e ci vediamo alla prossima ciao ciao